Eccoci ritornati in diretta, dunque come abbiamo detto all'inizio del nostro programma oggi ci vogliamo concentrare su un aspetto particolare della vita e della spiritualità di Padre Pio, il suo rapporto con gli artisti e direi anche nello specifico con la musica ed è per questo motivo che abbiamo con noi in diretta il nostro caro amico Cristian Grifa che ritorna nei nostri studi dopo un po' di tempo però ovviamente è sempre bello rincontrarti. Bentrovato, buongiorno e buona domenica. Buongiorno a tutti voi, grazie. Allora partiamo da questo rotondo film festival, così è stato definito, questa iniziativa molto bella che è partita ieri con la proiezione del docufilm Il primo moto dell'immobile di Sebastiano D'Aiala Valva presso l'auditorium Meripail del santuario di San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo e prosegue questa sera con un altro appuntamento importante, giusto Simona? Sì sì, assolutamente. L'altro, la proiezione del docufilm, hai detto il primo moto dell'immobile e poi appunto il concerto Stigmate, Suoni della Terra e del Cosmo. Sarà eseguita per la prima volta proprio oggi alle 21 in occasione dei 105 anni della commemorazione appunto delle stimmate di Padre Pio nel giorno delle stimmate di San Francesco. Allora Cristian vorrei chiederti come nasce questa opera, mentre ci tengo a far vedere anche questa pubblicazione molto interessante che appunto vuole riassumere quelli che sono i significati di quest'opera che oggi per la prima volta verrà presentata al pubblico. Stigmate e Suoni della Terra e del Cosmo è una composizione che nasce in seguito al ritrovamento di un Armonium, un Armonium che è uno strumento non qualunque ma molto molto speciale perché l'Armonium di cui parliamo in realtà è un regalo che fece Jacinto Scelsi a Padre Pio dopo la sua visita a San Giovanni Rotondo nel 1951. Jacinto Scelsi è uno dei più grandi e innovatori compositori del secondo novecento, è un musicista che ha cambiato la musica a livello mondiale. Venne ad incontrare Padre Pio anche perché aveva dei problemi di salute suoi personali, aveva già incontrato cento medici ma nessuno di questi era mai riuscito a trovare la causa del suo male. Si rivolse a Padre Pio e come lui ci dirà la sua richiesta non venne assolta e lui ci spiegherà anche in una sorta di lettera il suo incontro che avvenne con Padre Pio che abbiamo anche un estratto qui sul nostro libro in questione. Abbiamo quindi questo incontro di due persone che si incontrano nella sofferenza. Da una parte c'è San Pio da Pietralcina stigmatizzato e dall'altra parte c'è Jacinto Scelsi, questo compositore di musica, anche lui affetto da malattie che non gli permettevano più di lavorare. Allora dall'incontro di queste due persone che si incontrano nella sofferenza ho voluto scrivere Stigmate proprio perché è un racconto della sofferenza e quindi è una domanda filosofica del perché della sofferenza della sua creazione. Tenendo anche conto che lo strumento per il quale io ho scritto è specificamente per questo armonium che è stato ritrovato e che appunto farà la sua comparsa e sarà presentato per la prima volta al pubblico e questo strumento forse non casualmente fu donato e adesso si trova a casa sollievo della sofferenza. In effetti stiamo vedendo anche delle immagini relative ad un servizio realizzato da Maria Pia Picciafogo qualche tempo fa che ci mostra proprio questo armonium suonato dalle mani del maestro Nicola Cisternino. Dunque per la prima volta apparirà in pubblico questo armonium. Mentre stiamo vedendo la foto di Jacinto Scelsi. Il maestro Cisternino ha fatto un grandissimo lavoro di ricerca negli anni precedenti e già da 20 anni siamo più o meno a conoscenza di questa donazione a Jacinto Scelsi anche grazie a dei documenti. Lui ha benissimo documentato il tutto e adesso invece lo ascolteremo questa sera per la prima volta. Ecco io vorrei soffermare un attimo sul concetto di sofferenza e di malattia perché è un po' il concetto che unisce come le ha già detto unisce queste due figure. Quanto è importante la musica? Qual è il ruolo della musica nel caso in cui ci sia una situazione di sofferenza? Quindi in qualche modo la musica può accompagnare e alleviare la sofferenza? È vero, è vero, è molto vero questa cosa perché la musica è anche terapeutica e anche scientificamente è anche riconosciuta. Parliamo anche stesso della musica di Mozart, di Bach ma in questo caso come stasera parliamo anche di culture diverse anche perché io ho voluto unire in questa composizione due culture diverse perché quando Jacinto Scelsi e Padre Pio si incontrano parliamo di due persone che sono totalmente diverse nella loro cultura. Padre Pio è uno dei più virtuosi tra i cattolici e Jacinto Scelsi è una persona, un studioso che è sempre molto affascinato dalle teorie e dal mondo orientale. Queste due persone si incontrano, questi due universi si incontrano, due diversi pensieri si incontrano e quindi ecco ho voluto anche scegliere e unire oltre all'armonium farlo accompagnare da strumenti che non appartengono prettamente alla nostra cultura occidentale ma orientale come per esempio le campane tibetane, i gong e sappiamo che anche questi strumenti vengono anche usati per le loro capacità curative. Senti Cristian, stigmate è la parola chiave ovviamente di quest'opera perché ovviamente si intitola così ma credo che poi chi avrà modo di partecipare intuirà in maniera naturale il perché di questa scelta. Cade in una giornata particolare, oggi è l'anniversario delle stimate di San Francesco, tra pochi giorni ricorderemo ovviamente quelle di Padre Pio. Che cosa ti ha ispirato nella scelta del titolo di quest'opera e perché proprio la parola stimmate? Sì come magari accennavo già precedentemente è proprio l'incontro di queste due persone che si incontrano nella sofferenza e in modo specifico anche perché quest'armonium è proprio a casa sollievo della sofferenza. Quindi tutte queste cose combaciano e sembrano non essere un caso che tutti questi elementi si incontrano e quindi la mia ispirazione, la mia necessità è stata appunto quella di parlare proprio della questione della sofferenza nel percorso dell'umanità che da sempre purtroppo, chissà, non sappiamo spiegarci il motivo, fa parte della creazione universale e anche questo io lo voglio anche associare appunto al cosmo perché nella mia interpretazione delle stimmate io voglio aggiungere, se sono tante interpretazioni la mia è anche quella un po' più che riguarda il cosmo, cioè non è solamente la sofferenza umana ma c'è qualcosa di veramente dietro la creazione intera per la quale Padre Pio, per la quale c'è anche il mistero della crocifissione. Io direi allora, stravolgendo un po' la scaletta, chiedo alla regia, vediamo insieme a questo servizio di Maria Pia Picciafuoco che ci descrive il perché questo armonium è così importante e perché è collegato all'opera che quest'oggi Cristian Grifa presenterà nel santuario di Padre Pio. Vediamo insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora Padre Pio lo conosciamo, Giacinto Scelsi no o meglio e in questo contesto lo possiamo scoprire proprio in rapporto a Padre Pio e grazie a questo meraviglioso strumento che è qui dal 1951 o precisamente a San Giovanni Rotondo dal 1951 perché l'ospedale, la casa soliva della sofferenza non era ancora stata costruita e l'armonium vi arriva nel 1951 proprio acquistato e spedito dal Conte Giacinto Scelsi, grazie a questo documento che è originale, che appunto ne testimonia, ne documenta, grazie al commentator e sono andato a tutti i miei vecchi. Il venditore, il venditore, il venditore ufficiale degli strumenti di qualità dell'epoca per la Santa Sede e quindi l'invio, la spedizione all'erigenza, a casa tra l'olivo della sofferenza tramite il conte Johann Telferer. La lettera è dell'11 agosto del 1951, questo armonium quindi ha una storia, un percorso in qualche modo fondativo come è stata per la casa e sollievo della sofferenza perché parte proprio dalle sue fondamenta, fondamenta materiali perché è la costruzione, gli anni a costruzioni ma soprattutto fondamenta spirituali perché in questo caso è attraverso anche la musica che il messaggio poi di Padre Pio, che è il messaggio poi anche attraverso la casa e sollievo della sofferenza, dell'umano attraverso la sofferenza che può emanciparsi anche attraverso il suono e la musica. Per cui Giacinto Scelsi che in quegli anni è un compositore molto in crisi e anzi fortemente in crisi, depressiva, inspiegabile perché è curato da oltre 120 medici, si rivolge a Padre Pio grazie alla mediazione di sua madre che era una figlia spirituale di Padre Pio, lo conosceva, la contessa Giovanna e poi viene a San Giovanni Rotondo e quindi stabilisce una relazione diretta perché segue le messe di Padre Pio e gli chiede l'intercessione. Poi c'è una corrispondenza importante di finora una decina di lettere tramite il conte Telfner che fa sempre il mediatore e che comunque gli scrive sempre a nome del padre, sempre a nome di Padre Pio. Tra l'altro con queste due fotografie, perché queste sono le due foto che il conte Telfner invia, la prima foto è quella che il conte Telfner invia a Scelsi in una lettera documentata appunto, che poi ha anche un ritocco di colore, una foto abrescia, mentre la foto più piccola è la foto che donna Giovanna, la contessa, la madre di Scelsi appunto possedeva, aveva nella sua borsetta. Quindi tra l'immagine e il suono attraverso uno strumento in qualche modo è come se si rinnovasse continuamente un messaggio che è sempre qui con noi, è sempre, e Padre Pio come diria ce lo ricorda con le immagini, con i suoni, con gli strumenti e con tutto quello che si può fare, immaginare con le grandi opere. Ebbè abbiamo visto davvero l'importanza di questo strumento importante, che tra l'altro poi Cristian è un'ulteriore dimostrazione del fatto che in Casa Sollievo, ma un po' in San Giovanni Rotondo tutto parla di Padre Pio in qualche modo. Prima di lasciarti la parola, Simona, vorrei chiederti, farti una domanda diciamo più, tra virgolette, tecnica. Che differenza c'è tra un pianoforte, perché tu nasci pianista, giusto? Ecco, tra un pianoforte e un armonium. Sono proprio due strumenti diversi a parte la tastiera. Ecco. E' tanto è vero che io faccio grande difficoltà, anche stasera farò grandissima difficoltà a farlo suonare, perché l'armonium, per far uscire il suono dall'armonium bisogna azionare dei pedali, no? Forse molti l'hanno riprovato anche quando erano piccolini nelle chiesette, no? C'erano questi pedali da azionare, invece il pianoforte non ha questa meccanica, perché diciamo l'armonium ha dei serbatoi interni, tipo una sorta di fisarmonica, e quindi questi pedali spingono questi serbatoi che poi fanno uscire il suono, cioè il fiato attraverso le ance che poi si libera e diventa suono. È uno strumento molto particolare, insomma. Molto particolare, infatti è caduto anche in disuso perché è abbastanza difficile farlo suonare, insomma. Quindi al grande valore spirituale si aggiunge anche il grande valore tecnico di uno strumento in presente. Sì, io dovevo fare il grande lavoro di ricerca perché per produrre questo lavoro ho impiegato sei mesi dalla mia vita, cioè proprio per comporre questa musica, quindi ho dovuto veramente conoscere lo strumento pienamente, anche nella sua parte tecnica. E veramente mi trovo a dire che questo strumento è veramente uno strumento, potremmo dire, scelsiano, e quindi mi ha permesso di scoprire veramente il suono che io da pianista magari lì per lì non riuscivo veramente a concepire. Quindi proprio la produzione di questo suono, perché io non ho mai suonato un altro strumento diverso dal mio, tant'è vero che stasera una delle particolarità è che io ho chiesto a tutti i musicisti, ad ognuno di loro, di non suonare il loro proprio strumento, perché sono chitarristi, sassofonisti, suoneranno totalmente altri strumenti e ne suoneranno più di uno, producendo così l'effetto di una vera e propria orchestra. Come accade un po' in quella che è considerata l'opera più grande, o tra le più grandi della letteratura italiana, la Divina Commedia di Dante? Non la cito a caso e poi chiedo infatti al maestro Grifa di spiegarci il perché. È importante la numerologia, Dante era legatissimo al numero 9, in questo caso abbiamo un altro numero che è il numero 5. Perché? Perché questo numero e perché il riferimento a Dante? Io sono partito, mi sono dato il numero 5 come punto di riferimento, sia per stabilire la struttura e altro, perché innanzitutto parliamo dei 105 anni dalle stimmate di Padre Pio, poi parliamo delle 5 stimmate, parliamo anche dell'armonimo di Jacinto Scelsi a 5 ottave, così come possiamo anche dire a proposito di Dante che la visione di Dante della croce è proprio nel quinto cielo di Marte, quindi io con la mia fantasia, perché faccio questo nella vita, vado del lavoro di immaginazione, mi sono inventato che le stimmate siano partite da un dove, questo dove l'ho voluto trovare appunto nel quinto cielo di Marte e quindi ho voluto far combaciare la visione di San Pio del Pietralcina con quella di Dante Alighieri, appunto del quattordicesimo canto del Paradiso. Questo produce sicuramente un grande fascino, ma è stato veramente un oggetto di grande ispirazione. Allora Cristian, noi ora ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, tu resti con noi perché adesso apriamo un altro capitolo relativo al rapporto, come dicevamo all'inizio, di Padre Pio con gli artisti e degli artisti con Padre Pio, visto che è una corrispondenza ovviamente biunivuca, con un'opera molto bella che ha iniziato una seconda vita. Restate con noi e tra pochi istanti scoprirete perché. Eccoci ritornati in diretta, dunque come promesso ci colleghiamo con Agnese Festa dell'Accademia Federiciana di Andria per parlare di una seconda vita, di un'opera che ha emozionato tante persone. Sto parlando dell'Hactor Day, l'attore di Dio, il primo musical dedicato proprio alla vita di San Pio da Pietrelcina. E ci sembrava bello e giusto in questa giornata che abbiamo voluto dedicare al rapporto di Padre Pio con gli artisti e degli artisti con Padre Pio, parlare di questa opera che potremmo dire nasce una seconda volta. Buongiorno Agnese, bentrovata. Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie per avermi invitata in questo bellissimo contenitore. Che dire, sì, è una seconda vita in quanto quest'opera ha già debuttato nel 2006-2007 circa proprio a San Giovanni Rotondo ed è l'unica opera riconosciuta dai frati minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo. Che dire, sì, una seconda vita perché per un po' si è fermata, ma sia per volontà dei frati Cappuccini, in accordo ovviamente con il regista che è Attilio Fontana, che in questa seconda veste ne ha calcato, mi ha proprio vestito i panni, come possiamo vedere dalle immagini, ha impersonato Padre Pio e anche in collaborazione con l'Accademia musicale federiciana di Andria abbiamo dato vita di nuovo a quest'opera che è ovviamente bellissima dal punto di vista musicale e testuale perché i testi sono revisionati e insomma c'è una supervisione di Padre Luciano Lotti, quindi ciò che si racconta attraverso la musica, attraverso la danza, la recitazione è tutto ispirato alla vera vita di Padre Pio, quindi non c'è nulla di meno o di più. Ovviamente con gli occhi del popolo, questo popolo che in scena è sempre presente sul palco che racconta, testimonia questo amore, in realtà è anche diffidenza, odio profondo, ovviamente non tanto nei confronti di Padre Pio, ma c'è sempre questa presenza del demonio che va a intorbidire le relazioni tra il popolo stesso e tra il popolo e Padre Pio. Quindi ripeto questa regia di Attilio Fontana, la produzione è stata dell'Accademia musicale federiciana perché Attilio e Maria Grazia Fontana collaborano con la nostra scuola di musica dal 2013 e quindi da un laboratorio partito lontano dieci anni fa, un laboratorio di musicale e di teatro con i ragazzi del territorio, non solo Andriesi, è nata questa idea di ricreare una compagnia. All'attivo abbiamo 5 spettacoli, ma dall'anno scorso è ritornata questa cosa di voler rimettere in piedi Actor Day. E gli attori, i ballerini nel cast sono al 90% pugliesi, ci sono anche due artisti di San Giovanni Rotondo, Foggiani, Salentini, Andriesi ed è bellissimo perché queste 5 date che abbiamo messo in scena quest'estate sono state patrocinate dalla regione Puglia che ha fortemente voluto anche questo Made in Puglia perché è giusto così insomma, un po' come faceva padre Pio quando ha costruito l'ospedale che si è avvalso della collaborazione di tutte le maestranze locali. E quindi tante volte i nostri ragazzi vanno via, questa volta abbiamo valorizzato gli artisti locali. Anche perché la cronaca ci fa vedere ogni giorno più l'albero che cade che la foresta che cresce, quindi è una cosa molto bella quella di valorizzare il territorio. Quindi abbiamo detto in scena oltre 40 artisti, tra cantanti, ballerini, un'opera, possiamo definirla anche un po' pop rock, un'opera complessa, assolutamente, un'opera molto complessa. Ecco, quanto è stato difficile mettere in scena questo spettacolo insomma? Beh è un lavoro che va avanti, insomma, siamo partiti più di un anno fa, è stato difficile, in realtà nasce con questa, come abbiamo detto, questo stile un po' rock pop moderno, non ha assolutamente niente a meno di altri musical del panorama nazionale. Chi l'ha vista lo sa che ha un sapore, un linguaggio veramente moderno che è fatto anche per avvicinare i giovani, non è il musical, il recital tipico religioso. Ha uno stile che avvicina il laico, avvicina il non credente, avvicina il credente, quindi abbraccia tutti coloro che ci si accosta a quest'opera quasi in maniera più laica che religiosa e questa forse è la carta vincente. La difficoltà sicuramente è stata quella del tempo, perché abbiamo fatto veramente un miracolo in pochissimo tempo, non nelle risorse, perché noi pugliesi quando dobbiamo lavorare ci rimbocchiamo le mani che non guardiamo assolutamente le difficoltà, quindi sia le maestranze, tecnici, falegnami, tutto locale, quindi abbiamo veramente lavorato bene senza difficoltà da questo punto di vista. Adesso abbiamo una nuova data anche. Actor Day ha appena detto, è uno spettacolo per tutti, quindi è uno spettacolo anche per chi non crede, perché in fondo per credere bisogna capire e per capire bisogna conoscere. Qual è la sua opinione a riguardo su questa conoscenza? In realtà Padre Pio è una figura conosciuta tantissimo, la cosa che stupisce ancora è che è conosciuta da tantissime generazioni, quindi lo conosce il bambino e anche ovviamente la persona più anziana che magari l'ha vissuta. La conoscenza in questo caso non è prettamente soltanto religiosa, sicuramente stupisce quanto ancora questa figura unisca e riunisca proprio intorno al suo nome appunto il credente e il non credente, il filosofo, il laico e la persona profondamente devota e questo in tutto il mondo. Lui l'ha fatto anche quando negli anni appunto 50 non c'erano i social, non c'era Instagram, non c'era YouTube, non c'erano i social, però Padre Pio ha fatto parlare di sé ovunque senza i mezzi che abbiamo oggi insomma. Io voglio provare anche a fare un esercizio per trovare dei punti di convergenza tra due opere che possono sembrare totalmente differenti nello stile. L'actor day è quella che stasera presenterà Christian, Stigma dei suoni della terra e del cosmo ed è questo richiamo alla natura. Noi in questi giorni stiamo vedendo anche attraverso gli ospiti che si sono un po' succeduti nei nostri studi che Padre Pio non è il santo, passatemi il termine, della sola spiritualità, ma è un santo a 360 gradi che coniuga il sociale, l'ecologia, la solidarietà, l'accoglienza e questo tratto ecologico di Padre Pio, se così possiamo dire, credo sia uno dei punti di incontro anche tra le due opere perché in actor day chi lo ha visto sa benissimo questo amore della natura del popolo di San Giovanni Rotondo, poverissimo all'arrivo di Padre Pio che dunque è legato in maniera viscerale alla terra e poi i suoni della terra dell'opera di Christian. Non so se sei d'accordo con questa mia piccola riflessione che mi viene così in maniera molto spontanea. Beato te che riesci a fare spontaneamente queste riflessioni perché io ci devo pensare a mesi. In realtà sì, Stigma è anche una metafora di questo. Il suono della terra è in tal modo che avremo anche strumenti che hanno a che fare con la terra anche con DigiDoo e altre cose di culture diverse che sono veramente strumenti di terra e li ho scelti apposta perché è proprio a che fare con la lettura dell'umanità che è della terra evidentemente ma è anche del cosmo, è anche parte integrante di tutto il cosmo. Dunque è importante questo aspetto. Direi allora con la nostra ospite Agnese di parlare di quelli che sono anche i tentativi di avvicinamento ai giovani perché tu hai detto prima che i giovani conoscono le giovani generazioni ma un po' in generale chi ha avuto a che fare con Padre Pio in qualche maniera tende a diffonderlo. Come si approcciano i ragazzi a questa figura così poliedrica come abbiamo avuto modo di vedere? Qual è quella di Padre Pio? Sicuramente quando siamo partiti tanti anni fa con i nostri laboratori e abbiamo toccato questo argomento non è stato immediato, soprattutto facile da mettere in scena perché magari i ragazzi, allora ragazzi ora sono artisti, si aspettavano argomentazioni più moderne ma in realtà abbiamo fatto un lavoro laboratoriale con Attilio Fontana e Maria Grazia Fontana che è andato a scavare anche quelle che erano le radici delle famiglie di questi allievi, di questi ragazzi e quando abbiamo fatto un lavoro di ricerca sulla figura prima di metterla in scena ci si è resi conto che ognuno di loro nel proprio vissuto aveva avuto a che fare non direttamente ma con le generazioni precedenti o con dei parenti aveva una storia da raccontare che li legava Padre Pio noi abbiamo fatto nella nostra formazione anche una piccola residenza a San Giovanni Rotondo abbiamo vissuto i luoghi di Padre Pio e questo ci ha aiutato moltissimo ci ha aiutati a entrare nella storia quindi sempre aiutati dai fratti minori e dal centro di spiritualità ospitati appunto il centro spiritualità di San Giovanni Rotondo siamo stati sui luoghi questo ancora di più c'è questa energia fortissima di Padre Pio che è comunque anche proprio tangibile anche se viene raccontata sicuramente il linguaggio che abbiamo anche attualizzato è stato il fatto di mettere all'interno dell'opera delle musiche molto 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 giovanili anche se ci sono le contaminazioni pugliesi tornando ai suoni ci sono strumenti pugliesi tamborelli perché c'è una taranta molto molto bella che non posso dire sia il pezzo di punta ma è quello che ti resta in quest'opera Agnese le voglio fare una domanda un po' più tecnica perché è un musical questo che possiamo definire un po' all'americana perché ci sono solo canzoni e mancano le battute recitate ecco volevo un attimo capire se questa è stata una scelta solo stilistica o c'è un senso dietro questo predominio della musica? Sicuramente ripeto chi ha gli autori dei compositori delle musiche in primis Fontana hanno questo linguaggio moderno sviluppato quindi anche come dire l'americana in realtà c'è un paio di parti recitate che sono affidate soltanto al prelato che viene dal Vaticano quando elenca tutti i divieti che vengono sottoposti a Padre Pio quindi vietato confessare, vietato celebrare messa e quindi ci sono due interventi di questo prelato che viene dal Vaticano voluti, intenzionali in quanto lo cita anche il testo di una canzone la Chiesa è madre, dice a un certo punto Padre Pio la Chiesa canta, la Chiesa è madre e madre resterà cioè viene data incisività alla parte parlata soltanto quando viene inviato il prelato dal Vaticano come a dire tutto bello, cantiamo, tutto nello stesso mood ma c'è proprio questo taglio netto, questa gamba tesa che arriva da Roma e che taglia proprio questa atmosfera già di quasi un'ora musicale quasi uno schiaffo senza mano in cui vengono dettate tutte le privazioni e le regole che arrivano da Roma Allora io vi chiedo scusa perché mi sono un po' perso perché abbiamo la pubblicità che incombe quindi chiedo alla regia quanto tempo abbiamo prima della pubblicità perché voglio fare un'ultima domanda a Cristian in maniera tale che, ok perfetto, abbiamo due minuti se ti senti di ringraziare qualcuno, Cristian e poi la stessa domanda la rimbalzo anche alla nostra amica in collegamento Assolutamente sì, le persone a ringraziare sono tantissime perché il supporto e la cooperazione per realizzare quello che accadrà stasera è veramente di tantissime persone in primis del Comune di San Giovanni Rotondo dell'associazione Provocalt ma anche degli amici più stretti che mi hanno prestato e si sono adoperati per fare ogni cosa veramente grazie ad ogni loro grazie al lavoro del maestro Cisternino per questo bellissimo servizio che voi avete realizzato lodevole, molto bello grazie anche a voi per questa chiacchierata di stamattina La stessa domanda da Agnese Velocissima, grazie a voi per avermi invitata grazie sicuramente ai frati minori Capucini di San Giovanni Rotondo che ci hanno veramente riattivato con questo spettacolo alla regione Puglia e nelle persone mi preme ringraziare Sergio Clemente e anche Gaetano Cusenza che crede in questo progetto da una vita e poi alla parte artistica io e Michele Lorusso che siamo la produzione ringraziamo sicuramente tutto il cast Maria Grazia Fontana che è la nostra vocal coach Attilio Fontana, Orazio Caiti per le coreografie e insomma tutto lo staff tecnico che ci ha portato fin qui Allora, stigmate suoni della terra e del cosmo questa sera alle 21 nel santuario nella chiesa antica di Santa Maria delle Grazie chi volesse può recarsi invece Agnese per quanto riguarda i prossimi appuntamenti prossima data, actor day 2 ottobre con il comune di Cerignone poi dicembre tante altre date perfetto, ok abbiamo allora racchiuso tutto grazie ad entrambi per essere stati con noi grazie, buona domenica grazie, noi ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme grazie